Ben trovati a tutti, amici e amiche di Padre Pio TV. Tematica di oggi è la morte. Le domande di fondo dell'uomo sono da sempre queste. Chi sono? Da dove vengo? Dove vado? Ma anche perché la morte? San Francesco d'Assisi definisce la morte addirittura sorella morte. Ecco, nella nostra vita che cosa c'è di più caro se non la famiglia? Un fratello, una sorella. Cioè sono coloro che ti appartengono, fanno parte di te. E anche la morte fa parte della vita di ciascun uomo. Oggi però io vi porrei parlare della morte sotto un triplice aspetto. La morte redentrice di Cristo, la morte spirituale e la morte eterna. Ma ascoltiamo prima, attraverso la voce di Mario, uno stralcio di Genesi 2. Il Signore Dio diede questo comando all'uomo. Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare. Perché quando tu ne mangiassi, certamente moriresti. Tutto allora ebbe inizio dalla disobbedienza dell'uomo al comando di Dio. Con la disobbedienza entra nel mondo il peccato e la morte. Se il grave atto di disobbedienza ha portato la morte, la vita viene portata da un grande atto di obbedienza. E qual è questo atto di obbedienza se non quello del figlio di Dio che si incarna, che si fa uomo, che muore fino appunto alla morte e morte di croce. E anche ognuno di noi, dopo questa morte redentrice di Cristo, può scegliere la vita. La vita deve essere scelta quotidianamente, con il suo sì personale. Ascoltiamo cosa diceva San Pio da Pietrilcina. Il pensiero della passione di Gesù non si diparta mai dalla tua mente e ti sia di conforto nelle ore di prova. La grazia del Signore sia sempre con te. Non sarà coronato, dice lo Spirito Santo, se non chi avrà legittimamente combattuto. Combatti dunque, da forte, e avrai il premio che Dio ha riservato alle anime forti. Si paziente dunque, ed attendiamo fiduciosi l'ora del trionfo. Siamo sempre uniti in un solo Spirito dinanzi a Gesù. Ecco, poc'anzi vi ho parlato della morte redentrice di Cristo. C'è un'altra morte che è pericolosa, che è la morte spirituale, che rischia di portarci verso la morte eterna. Qual è la morte spirituale? È quella causata dal peccato. Il peccato distrugge ogni forma di relazione, di amicizia, non solo con i fratelli, perché si pecca contro i fratelli, ma ciò che è più grave distrugge ogni forma di amicizia con Dio. Cioè, rompe ogni legame tra creatura e creatore. Oggi, qual è il dramma dei nostri giorni? Che si acconsente tutto, ma soprattutto si giustifica tutto. Non c'è più il male, non c'è più bene e male, morale e immorale. Lo abbiamo detto anche nei giorni scorsi. Tutto si giustifica con una frase. Che male c'è? Anche i famosi fioretti, che di solito facciamo nei tempi forti di Avvento e Quaresima, a che cosa li abbiamo ridotti? Li abbiamo ridotti a un non bere caffè, a un non mangiare cioccolata, a un non fare una determinata cosa, ma che non trasforma la vita interiore, la vita spirituale. E ciò che noi dobbiamo fare è dare guerra al peccato, cioè lottare contro il peccato, vincere il peccato, se vogliamo camminare verso il Regno dei Cieli, altrimenti sarà morte eterna. E che cos'è la morte eterna? È vivere sapendo che Dio esiste, ma noi non possiamo goderne della sua visione per l'eternità. E cosa c'è di più triste per un cristiano vivere per l'eternità senza il suo Signore? Un affettuoso abbraccio a tutti e l'esortazione che vi faccio è facciamoci santi qui sulla terra per stare insieme nel cielo per l'eternità con il Signore.